Sono Marco Monnecchi, dovrei essere il titolare, il padrone, diciamo così, della terra, però attualmente c'è Marcello, cura la terra e io mi piace vivere in campagna, per cui Dio, Marcello cura la parte agricola e io faccio le pubbliche relazioni. Sono Marcello Monnecchi e sono il titolare dell'azienda agricola Campocorto. Il momento più significativo per me è stato il momento di prendere in mano l'azienda che ha creato mio padre e dargli un nuovo progetto imprenditoriale, però mantenendo i valori, i principi e l'idea che lui ha creato. Ho imparato a convivere con la campagna. La mia cultura era da paesano a cittadino, per cui la campagna l'ho scoperta in questo posto, accanto a questi prodotti che poi sono cresciuti come sono cresciuto anch'io. La creatività di fronte a un paesaggio da salvare, da sistemare, eccetera, allora tutto diventa creativo, piantare una pianta, sistemarla, fare un giardino, sistemare il giardino.